E' stata eseguita l'autopsia sulla salma del favarese Giuseppe Mattina, il 41enne ucciso lo scorso venerdì sera incontrato a San Benedetto in territorio di Favara. Ad eseguire l'ispezione cadaverica disposta dalla procura della Repubblica di Agrigento, un esperto dell'Università di Catania recatosi per l'occasione presso la camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio alla presenza dei consulenti tecnici di parte sia per la vittima che per l'indagato. Proprio l'indagato Giovanni Riggio, 29 anni di Palermo, avrebbe confessato di aver ucciso Mattina. L'uomo si sarebbe costituito verso le 4 del mattino del giorno successivo al fatto presso il commissariato di Brancaccio. L'esame autoptico servirà dunque a riscontrare la veridicità delle confessioni di Riggio. Si dovrà stabilire quante siano state le coltellate all'addome della vittima e constatare laddove possibile se veramente il 41enne sia stato legato alle gambe con del nastro adesivo solo dopo essere stato ucciso. Intanto la salma è stata restituita a familiari della vittima per celebrare i funerali.